Di regola Rassison per il San Zaccaria impegnato nella sfida casalinga al Mozzanica. Con il passaggio comunque obbligato ai play-out, la sfida alle Bergamasche rappresentava per le Biancorosse l'ultima vera chance per agguantare la miglior posizione nella griglia salvezza prima di gettarsi a capofitto nella post-season. Ma è un match praticamente a senso unico. All'ottavo subito Giacinti a fallire l'occasionissima dell'1-0 ma passa appena un minuto e il Mozzanica non perdona con Pirone che realizza la prima delle sue reti e ne vedremo veramente tante. Intanto al quindicesimo minuto la reazione della San Zaccaria con l'ottima punizione di Toceri Cimini sicuramente la migliore nella match di ieri per quanto riguarda il San Zaccaria. Alla ventiseisimo però è ancora Pirone a sfruttare il cross di Motta. 2-0 la reazione ancora affidata a Toceri Cimini. Pallone alto il suo alla ventisettesimo ma due minuti più tardi la solita numero 11. La solita Pirone che mette a sedere Tampieri firma la sua tripletta. 3-0. Non finisce però di grandinare sul San Zaccaria perché Venturini commette fallo ai danni di Giacinti. Calcio di rigore va a battere al Borghetti e in appena 31 minuti sono già 4 le reti delle bergamasche. Continua però il San Zaccaria a spingere per cercare almeno il gol della bandiera già a fine primo tempo. Ci prova con Baldini. Conclusione parata facilmente. Siamo alla terzo della ripresa adesso e l'ennesimo uno contro uno davanti al portiere porta il gol di Giacinti. Aggiorniamo il tabellino 5-0. Sesto minuto della ripresa ci prova Razzolini, salva Gritti. Undicesimo della ripresa. Calcio di punizione splendido quello di Toceri Cimini che trova il gol che riduce il distacco. 5-1 per Ila Mozzanica che però non si addormenta, vuole chiudere alla grande il proprio campionato. Lancio in profondità per Giacinti. Una fuga per la vittoria coronata. Dalla tocco vincente per scavalcare il recupero in extremis. Il gol dunque della 6-1, la doppietta da parte di Giacinti. Spostiamoci però al ventesimo della ripresa. Ci prova Toceri Cimini con uno scavetto che non ha buona fortuna. A differenza di quello che accade invece al ventesimo, in questo caso sì, il cucchiaio realizzato da Pellegrinelli è meraviglioso. Vale il gol del 7-1. Ultime chance in questo caso per Ila San Zaccaria con Filippi che spara sul fondo. Insomma, un match che lascia il tempo che trova ben differente dovrà essere l'atteggiamento col coltello tra i denti, se vogliamo, della San Zaccaria per strappare la salvezza nella match di play-out che vedrà le Biancorosse affrontare col vantaggio del fattore campo il Como 2000.